Un unico gestore per i container bar al Serraio e al Ponte Petrino, per la spiaggia urbana sulle rive del Bisenzio e lungo Viale Galilei e anche per l'anfiteatro di Santa Lucia. È ciò che sta cercando il comune di Prato con il nuovo bando che rispetto all'anno scorso raddoppia gli spazi del progetto Riversibility da animare nella bella stagione e triplica la durata dell'affidamento che stavolta sarà di tre anni anziché di uno. Chi vincerà il bando avrà a disposizione i quattro spazi fino all'ottobre del 2023. Ovviamente il periodo d'uso della spiaggia urbana, assegnata all'inizio di giugno e vincolata al periodo estivo, è regolato dalla regione in relazione al rischio idraulico che la stretta avvicinanza al Bisenzio comporta. Utilizzo è necessariamente legato ai mesi estivi anche per l'anfiteatro di Santa Lucia, dove saranno organizzati eventi musicali e spettacoli con la possibilità di aggiungere punto ristoro. Più flessibile è l'uso dei container bar circondati da tavolini e sedie per ravvivare zone complesse quali il Serraio e il Ponte Petrino. È possibile organizzare eventi sia in questi ultimi due punti che nella spiaggia urbana. Il bando scade alle 13 del 30 aprile.